Mi appello a voi, adesso, di unirvi al movimento guidato da Sadguru per aiutare ad invertire la rotta al cambiamento climatico, il movimento Conscious Planet. Dobbiamo incominciare a riconoscere che quello che chiamiamo il nostro suolo, Madre Terra, è un organismo vivente. Un cucchiaino di suolo sano probabilmente contiene più microbi di quante persone ci sono sulla Terra e circa l'87% della vita sul pianeta dipende da questo. Il modo in cui sta andando ogni anno, in media approssimativamente. 2.700 specie di microbi stanno scomparendo. L'80% del bioma degli insetti è andato. Il 66% della popolazione dei vertebrati sul pianeta è scomparsa negli ultimi 50 anni. Il 92% della vita in acqua dolce del pianeta è scomparso negli ultimi 50 anni. Si stima che se andiamo avanti così, tutto il soprassuolo potrebbe scomparire fra 60 anni. Se cominciamo a lavorare adesso per far regredire queste cose, nei prossimi 15-25 anni potremmo rigenerare il suolo sul pianeta in modo significativo. Ma facciamo il caso che lo lasciamo così per altri 30-40 anni e si realizza la perdita della necessaria biodiversità. Dopo di allora, se ci proviamo, ci vorranno 150-200 anni. Ecco perché ora è molto importante. Chiedo a tutti voi di unirvi e partecipare al movimento Conscious Planet per salvare il suolo. Chiedo a tutti di dare il proprio supporto e unirsi a sostenerlo. Sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi facciamolo accadere. Grazie a tutti.